Proviamo a riassumere brevemente quello che sta accadendo a Campochiaro, ripercorrendo la storia a ritroso da quando, cioè in piena campagna elettorale, quella del 2013, Massimo Romano, candidato anche lui alla presidenza della regione, presentò un cartellone dove erano disegnati e ricostruiti con grandissima precisione prove documentali gli intrecci societari e affaristici di Paolo Frattura e di tutta la sua trasversalissima, futura, potenziale squadra di governo. Alcuni impallidirono, alcuni se ne fregarono, altri arricciarono il naso, ma nessuno parlò e Frattura vinse tale e quale. Ebbene oggi, a distanza di poco più di un anno, quei conflitti di interesse sono tutti in bella mostra, uno dopo l'altro. La Civitas è una delle tante società di Frattura, ceduta ad un prezzo irrisorio, per non dire a titolo gratuito, a Luca Di Domenico, marito di Mariolga Mogavero. E Mariolga Mogavero, braccio destro secolare di tutte le attività pubbliche e private di Frattura, attualmente riassume in sé sia la carica di capo di gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, sia quella di segretario della Giunta, come dire, noi ce la cantiamo e noi ce la suoniamo. Ebbene, tra le altre attività, la Civitas si occupava anche di energia e aveva la velletta di piazzare una centrale a biomasse nel bel mezzo dell'area che dovrebbe diventare Parco del Matese. Era una velletta che in una qualunque altra regione d'Italia non sarebbe stata presa nemmeno in considerazione, ma in Molise non è stato così. Dopo aver esibito il suo programma per la difesa dell'ambiente e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico molisano, Paolo Laura Frattura, una volta presidente, studia come individuare le basi di quella concessione, già bocciata dal TAR, su ricorso delle comunità locali. Torna utile allora Riccardo Tamburro, già dirigente regionale della Sanità, che viene improvvisamente spostato a capo del Servizio Energia della Regione, giusto il tempo di firmare l'autorizzazione delle due centrali nella Valle del Matese e viene dirottato di nuovo nella Sanità. Dunque la Civitas di Luca Di Domenico può presentare il progetto per la costruzione della centrale a biomasse di Campochiaro e lo presenta con una potenza di 0,001, meno di un megawatt, così da incassare velocemente l'autorizzazione. E il tetto massimo, guarda caso, sembra fatto apposta, su misura per la Civitas. La popolazione di Campochiaro insorge, i rappresentanti delle diverse associazioni ambientaliste elencano i danni in mani al paesaggio, oltre che rischi per la salute, e il Consiglio regionale del Molise approva l'unanimità non una, ma ben due emozioni che impegnano il presidente Frattura a ritirare le autorizzazioni. Da allora però non si capisce più nulla e la centrale va avanti.